OST 2023 continua, siamo allo stand di Caffè Toraldo, il caffè napoletano che ormai potete trovare non solo in tutta Italia ma anche in tanti altri paesi europei e del mondo, siamo in compagnia di Marco Simonetti l'amministratore delegato dell'azienda che saluto, buongiorno Marco, buongiorno a tutti, grazie Fabio e Stefania Simonetti l'amministratrice dell'azienda Lena di cui parleremo tra pochissimo, buongiorno Stefania bentornata, buongiorno a tutti, con Marco innanzitutto andiamo a scoprire quali sono le novità dell'ultimo anno Le novità Fabio sono tante, è stato un anno ricco di prodotti, ricco di lavoro fortunatamente l'azienda si è ampliata un po' la gamma prodotti, in fiera abbiamo portato nuove cialde aromatizzate al cioccolato, nocciola, pistacchio, caramello che magari sono delle, vi invito a scoprire in cialda appunto carta, poi ci sono tutti i prodotti che nel corso dell'anno ci hanno differenziato, uno tra tutti la cialda e la capsula dolce gusto dedicata a Dios che ha celebrato lo scudetto e di cui insomma siamo particolarmente orgogliosi. Diciamo che tutto ciò che riguarda la scorsa stagione del campionato di Serie A vi ha visti assolutamente protagonisti in quanto partner commerciali del calcio Napoli. Sì, 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 una partnership che continua ovviamente anche quest'anno e continuerà di cui siamo orgogliosi appunto. Siamo contenti anche dell'affluenza in fiera che è molto internazionale, ci sono stati incontri interessanti, siamo ben felici ecco di accogliere nuovi clienti e nuove realtà che vorranno scoprire il mondo d'Oraldo. Stefania, è il tuo turno, parliamo di Lena, che cos'è Lena? Lena nasce dalla nostra esperienza del caffè e quindi nella produzione di macchine da caffè da bar per poter dare un prodotto sempre di maggiore qualità ai nostri clienti. Nel 2016-17 iniziamo a produrle e nel 2019-20 creiamo un'azienda appunto Lena in maniera tale da poter vendere le macchine del caffè a leva sia per tutti i clienti d'Oraldo e per qualche altro torrefattore che vuole appunto approcciarsi a questo mondo delle macchine a leva. Voi siete famosi per fare le cose fatte bene, lentamente ma fatte bene e così passo dopo passo avete fatto crescere anche questo brand Lena con la produzione di macchine da caffè. due braccia, tre braccia, quattro braccia e poi vediamo se in futuro ci saranno ulteriori allargamenti in termini di erogazione. Stefania ci sono tante altre novità che riguardano proprio questa società però tu prima nell'intervista mi hai detto preferisco parlarne l'anno prossimo che sarà per noi un anno straordinario in termini di iniziative. Potremmo parlarne già al SIGEP? Vediamo se riusciamo ad accennare qualcosa e dare maggiori informazioni al SIGEP. E allora Marco il prossimo anno vi vedrà assolutamente protagonisti nel mercato delle torrefazioni nazionali innanzitutto per la nuova sede che prevede tantissime novità. Sì, stiamo costruendo questa nuova sede di circa 40.000 metri, un investimento importante che riguarda proprio tutto il comparto e tutta la filiera del caffè riguarderà. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo per realizzare il nostro sogno di azienda ma ci daremo sicuramente aggiornati e grazie al tuo supporto in questo è straordinario. E allora Marco grazie e poi appunto ne riparleremo a SIGEP, verrà fuori qualche altra novità e noi lo comunicheremo. Stefania grazie per la disponibilità. Grazie mille Fabio, arrivederci a tutti. Marco grazie per la disponibilità e tutte le piccole novità che stai andando a raccontare. Ma grazie a voi e grazie sempre a te per onorarci di questa intervista.